Just the Woman I Am La corsa per raccogliere fondi per combattere il cancro Quando si corre? Il giorno 6 marzo, credo che sia una giornata che dedicheremo al sistema donna ma non solo, spero che si iscrivano anche moltissimi uomini credo che sia un messaggio di grandissima cultura, non solo sportiva ma di sensibilizzazione affinché si possa praticare dell'attività fisica per qualificare la propria vita, per insomma, credo anche prevenire e curare anche alcune malattie io credo che da Torino questo messaggio è già partito molte città ci stanno chiamando per poter portare anche nelle loro città questo tipo di evento credo che ancora una volta tenerci delle cose molto belle nella nostra città può essere invece importante per far arrivare a Torino tantissima gente che possa condividere questo momento la gara si svolgerà nel centro storico di Torino sono 6 chilometri che naturalmente si potranno fare sia camminando che correndo l'altranno 8.000 persone, quest'anno il nostro obiettivo sono 10.000 persone direi che il vero messaggio è quello di, con questi fondi, di poter formare e aggiornare i nostri ricercatori Non solo un evento sportivo, una serie di programmi inerenti anche? Assolutamente sì, ci saranno moltissime attività in piazza sia sportive ma anche culturali sull'alimentazione, l'8 e il 9 ci sarà questo grandissimo convegno scientifico di altissimo livello voluto fortemente dall'Università e dal Politecnico di Torino porteremo a Torino 14-15 dei migliori oncologi del mondo che parleranno ai nostri ricercatori questo credo che ancora una volta che lo sport possa essere utile per la ricerca, l'innovazione e naturalmente l'aggiornamento, questo mi fa molto piacere